Veramente non riesco a spiegarmi come possa essere accaduto questo, siamo molto delusi della partita, che posso dire? Stavamo dominando quattro gol di vantaggio, poi abbiamo staccato la spina, non funziona così. Contro la Svezia ogni sbaglio può essere fatale, ed oggi abbiamo imparato una grossa lezione, nel calcio tutto è possibile. Ora chiaramente siamo ancora tranquilli per la qualificazione, ma abbiamo imparato che dobbiamo sempre dare il 100%. Sì, ho esperienza come giocatore, ma una partita così non l'avevo mai vista. Stavano dominando, poi hanno sciupato questa gara. Una serie di combinazioni, un effetto psicologico a catena, tutti hanno cominciato a dare meno. C'è stata superficialità sicuramente, prima 4-1, poi 4-2, poi la Svezia è tornata in partita. E non siamo stati più in grado di controllare la gara.